Scala inaugura questa produzione per i bambini per la prima volta. Io penso che da 40-50 anni non hanno fatto un'opera per bambini e molto, molto importante questo è il pubblico di domani. È un'opera ben progettata secondo me, non dura 22 ore, dura un'ora e un quarto, quindi un bimbo ha quell'autonomia. È effervescente, è Rossini, è la Cenerentola. È un'occasione meravigliosa perché il teatro è anche dei bambini. I bambini si devono avvicinare al teatro, soprattutto anche all'opera, quindi è un percorso giusto, è un percorso corretto. E poi c'è un collegamento molto interessante legato al fatto che sono i giovani cantanti dell'Accademia, selezionatissimi quello che ho, ma sono giovani, quindi c'è uno spirito e un'energia particolare che, come dire, si abbraccia molto ai bambini, comunque si avvicina un po' ai bambini. Voi farla sufficiente, vuoi farla sufficiente, la cara, la peniente, e non è buona niente. Se lavoriamo per un pubblico di piccoli è lo stesso di lavorare per adulti. Si tratta di divertire il pubblico. La versione originale è molto lunga, perché è tre ore, e c'è molto lunga, con cantanti, e in questa versione l'azione è concentrata, e tutto va molto veloce, c'è un'azione tutto il tempo, le cani non sono troppo lunghe, perché non è molto interessante per i bambini, e le cani sono solo per scoprire la musica per i bambini, c'è molto ritmo, e per questo è molto lungo e va più velocemente. Il personaggio che mi è piaciuto di più è stato Cenerentola, perché aveva un abito bello e le scarpette dell'argento con i brillantini. Il papà delle matugne, perché mi faceva ridere. Cenerentola, perché era bella. Questa Cenerentola per bambini è veramente un personaggio molto semplice, molto divertente, molto anche triste. Secondo me per i bambini è molto interessante, perché è visibile come un film, un cartone. L'abbiamo provato tanto, è stato un mese veramente intenso, ho passato mattina e pomeriggio a provare in continuazione, soprattutto per pulire quelli che sono i gesti che un bambino può notare molto più di un adulto. Domagnifico indubbiamente è uno dei ruoli più difficili da basso buffo, forse il più difficile che ha scritto Rossini. Ho dovuto studiare tanto, quattro mesi ho messo per studiare bene il ruolo di un magnifico. Il mio personaggio preferito erano le sorellastre, perché mi facevano ridere. Cenerentola. Il papà delle sorellastre, perché faceva ridere. Cenerentola, anche a me. Il carbo, sembrava proprio un vero uccello. Cenerentola. Ha interpretato il suo ruolo molto bene e mi è piaciuto. Il corpo. Perché era magico. L'opera lirica è popolare, solo così diventa nobile. Invece se è un po' come dire per comodità, o anche per questione economica, è molto imborgesito. E allora uccidi l'arte. Quando capti l'opera lirica come qualcosa di veramente popolare, come l'hai sempre stato, allora è bellissimo. Allora si avvicina, si tatua meglio. Guai considerare l'opera lirica qualcosa dell'it, qualcosa legato a guai, perché diventa povero, almeno artisticamente. Grazie. Grazie.